Amici di Battista70fono, oggi vi presento una bella cover per Blackberry Priv è una cover in similpelle dotata di un comparto per inserire eventuali carte di credito o quant'altro e di uno stand che ci permette di andare ad appoggiarlo e ad esempio utilizzarlo per vedere video o quant'altro lascia libere tutte le funzioni come vedete si aggancia in maniera semplice la tastiera è ben fruibile non abbiamo problemi e anche nella richiusura come vedete il meccanismo non viene assolutamente ostacolato potete vedere i tasti sono ben accessibili come vi dicevo potete tranquillamente utilizzarlo come uno stand in questo caso potete metterci la carta di credito come vedete vi porta a livello la cam quindi non rimane sporgente e di conseguenza non si graffia vedete qui anche il dual led flash che rimane sotto ma non viene per niente ostacolato quindi se dovete scattare delle foto non vi darà assolutamente nessun tipo di fastidio come sempre la trovate nel nostro shop un saluto da loris alias battista 70 per battista 70 phone